La Sicilia fa un passo avanti per la tutela delle donne grazie ad una legge che abbiamo fatta approvare dall'Aula di Palazzo dei Normanni che istituisce una cabina di regia interistituzionale per il contrasto al fenomeno della violenza di genere, prevede misure di sostegno agli orfani per crimini domestici e prevede la possibilità di apposite riserve dei fondi destinati alle politiche attive del lavoro. A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Valentina Zafarana, firmataria del disegno di legge. Con l'approvazione di questa legge, oltre ad istituire una cabina di regia regionale che sia in grado di rendere operative in modo attivo e coerente tutte le norme che già esistono in materia, viene prevista la formazione e l'inserimento lavorativo degli orfani per crimini domestici e si vuole dare la possibilità alle donne di liberare la dipendenza economica e sociale. La violenza di genere è una vera e propria emergenza sociale, ha aggiunto la deputata Roberta Schillaci, perché 7 milioni di donne nel mondo hanno subito o subiscono una forma di violenza. Anche il Consiglio d'Europa ha individuato la necessità di attivare subito delle cabine di regia che facciano sedere allo stesso tavolo tutti gli interlocutori che possono fare prevenzione e contrasto di tale forma di violenza e che le misure di contrasto e prevenzione devono passare per la formazione.